Eccoci di nuovo insieme per parlare della produzione di Ellen White, una scrittrice cristiana che è ritenuta una profetessa. Ebbene questa donna è stata contemporanea dei più grandi uomini che hanno fatto la storia del pensiero occidentale, per esempio Marx, Freud, abbiamo anche Darwin, dei quali parleremo ed è sintomatico il fatto che questa donna viene chiamata da Dio proprio in un momento storico importantissimo per la profezia e per la storia dell'umanità. La profezia perché scade la profezia delle 2300 sere e mattine di Daniele, la quale a termine nel 1844, è il mondo perché proprio in quel periodo storico nascono fermenti a livello politico, sociale, filosofico, ma anche religioso, che daranno l'impronta al nostro mondo attuale e guarda caso è un'impronta atea. Sono filosofi che per un modo o per l'altro, in buona fede o anche con convinzione, rifiutano l'idea di un Dio creatore, di un Dio che vuole guidare l'uomo e quindi sia la scienza che la filosofia, che la ricerca storica, la politica prendono strade che si allontanano sempre di più da Dio. E questo non soltanto perché si scopre che spesso una falsa religione ha veicolato un'immagine falsa di Dio da rifiutare senz'altro, ma anche perché c'è una presa di posizione netta, come si dice in gergo, buttando acqua sporca, cioè finta religione e bambino, cioè messaggio di Dio all'umanità negli ambiti della ricerca. Io partirei da una constatazione che fa Maurizio Blondet come introduzione al libro di Giuseppe Cosco, Politica, Magia e Satanismo del 1997, e Blondet scrive «L'uomo della strada di questo fine secolo è convinto di vivere in un mondo completamente laico e aperto, secolarizzato e democratico. Scopre che reti pedofile e ambienti politici di governo in certi paesi addirittura coincidono». E poi cita Feodor Dostoevsky, lo scrittore russo, che dice «Quando nel 1869 scrisse il suo romanzo Capitale per denunciare il più minaccioso fenomeno politico del suo tempo, l'emergere di gruppuscoli anarcho-rivoluzionari e nichilisti dediti al terrorismo rivoluzionario, lo intitolò non a caso i demoni». Ecco, noi qui stiamo parlando dell'ambito sociale e storico che vide le rivoluzioni marxiste-leniniste, no? E come vedremo, come dice l'avventista Roger Morno, ex-spiritista che ha ricevuto molte rivelazioni dagli spiriti grazie alle quali ha capito ciò che diceva Ellen White citando Apocalisse, cioè che molte figure di personaggi che hanno fatto la storia avevano legami con lo spiritismo, con l'occultismo, con l'esoterismo. E onore a questi uomini, perché hanno detto e scritto cose buone, però come dicevo hanno gettato via, insieme all'acqua sporca, il bambino e soprattutto si sono avvicinati all'occultismo. Per esempio molti non conoscono l'esperienza di Karl Marx e per parlare di Karl Marx, che ha scritto e ripeto e fatto cose interessantissime, potrei partire citando le parole del reverendo Paul Oestreicher, che disse Il comunismo, nell'origine, è un movimento per l'emancipazione dell'uomo dallo sfruttamento da parte di un altro uomo. Solo sociologicamente la Chiesa era, e in gran parte è ancora, dalla parte degli sfruttatori. Questo lo dice un reverendo. Karl Marx, le cui teorie velano appena una passione per la giustizia e la fratellanza, odiava la religione perché era adoperata come strumento per perpetuare lo status quo, nel quale i bambini erano schiavi e lavoravano a morte per arricchire altre persone in Gran Bretagna. Non era cento anni fa uno scherzo a buon mercato il dire che la religione era l'oppio delle masse, in quanto componenti del corpo di Cristo dobbiamo fare semplice penitenza, sapendo che abbiamo un profondo debito verso ogni comunista. Se, citiamo subito il bello, il buono del comunismo e del marxismo, perché nell'Inghilterra dell'Ottocento, in piena rivoluzione industriale, i signorotti, coloro che dominavano, sfruttavano addirittura i bambini fino a farli morire. Quindi benvenuto sia stato Marx. Richard Wombrand, in un libro L'altra faccia di Carlo Marx, riporta molte esperienze del giovane Marx che all'improvviso da credente, anche seppur sui generis, lui veniva da una famiglia di stampo ebraico, ha un cambiamento totale. E uno storico molto accreditato come Giorgio Galli, che si è tanto interessato dei rapporti tra politica e esoterismo, dice che la ricerca di Wombrand, questo scrittore protestante, ha delle basi labili che tuttavia consentono qualche riflessione. Poi continua dicendo nel suo libro La magia al potere, Wombrand ha comunque il merito di suggerire riflessioni, poiché dai poemi giovanili sino al linguaggio alchemico sottolineato da Parinetto, un altro scrittore, la presenza nella cultura di Marx di una vena esoterica è individuabile. Anche Jacques Derrida, un filosofo non certo complottista, nel suo libro Spettri di Marx, aveva un'idea un po' sospetta su un'esperienza di Marx giovane. Ora, del tema occultismo-satanismo in Marx ci occuperemo ancora, ma vediamo come Marx aveva ben chiaro in mente, fin dalla sua gioventù, cosa pensare della religione di Dio. Quindi, ottima azione sociale in difesa dei poveri, ma scarsità di idee che possono farle bene all'umanità, perché le idee di Marx sono veicolate da un milieu culturale, diciamo esoterico, addirittura satanista. Nel suo poema, scritto a 18 anni, è intitolato Invocazione di un disperato, egli afferma, desidero vendicarmi contro quell'uno che regna lassù. Dio, praticamente. Poi, un suo poema, citato dal Deutsch Tagspost del 31 dicembre 1928, diceva, potrò allora marciare in trionfo come un Dio fra le rovine del loro regno. Ogni mia parola è fuoco e azione, il mio petto è uguale a quello del Creatore. E, diciamo, potremmo dire che, insomma, tutti i giovani hanno avuto un periodo di impeti rivoluzionari, di mettersi contro le forze costituite, la religione costituita, ma Marx aveva fatto una scelta. E poi, in un altro poema, Orgoglio umano, alla fine dice mi sentirò pari al Creatore. E ancora in un altro dice, sui versi giovanili, più forti, più potenti, mondi interi vorrei distruggere a forza perché non posso io stesso creare, contro me stesso voglio vendicarmi con orgoglio contro quell'essere che la troneggia in alto. Insomma, ce l'aveva con Dio, era un novello prometeo, voleva rubare a Dio il fuoco sacro per darlo agli uomini. E Marx, in occasione del 55esimo compleanno di suo padre Heinrich, gli fa il regalo, Marx al padre, dei suoi poemi. E quando il padre li legge, rimane sconcertato. Carlo, ma tu non eri così, che cosa ti è successo? Quindi c'è un cambiamento in Marx da religioso a convinto satanista. Sì, convinto satanista. Infatti, in una lettera scritta al padre Heinrich, è datata 10 novembre 1837, Marx, utilizzando un po' la fraseologia appunto della religiosità, soprattutto ebraica, dice era accaduto un sipario. Il mio santo dei santi era fatto a pezzi e dovevano essere insediati nuovi dei. Il padre è preoccupato e gli risponde il 2 marzo 1837, solo se il tuo cuore rimarrà puro e batterà umanamente e nessun demonio sarà in grado di alienare il tuo cuore dai migliori sentimenti, solo allora io sarò felice. Cosa era successo a Karl Marx? Raffaele Vizioli, nel suo libro Psicopatologia del comunismo, scrive «I psichiatri non mi risulta che si siano mai occupati di Marx. C'è chi lo ha fatto per loro ed è stata una delle maggiori personalità della intelligenza cristiana, Simon Veil, che non ha esitato a parlare di illusione messianica, a proposito della certezza che Marx aveva, di essere destinato alla salvezza del genere umano, di svolgere un vero e proprio ruolo di redentore. Altri hanno parlato di desiderio narcisistico di onnipotenza e di palese volontà di autodeificazione, di personalità satanica, il che equivale a un vero e proprio delirio mistico che porta a identificarsi con la divinità. Nella Bibbia noi sappiamo che Satana viene rimproverato perché citando un suo desiderio viene descritto come colui che aspirava al trono dell'Altissimo, a mettersi al di sopra dell'Altissimo. Forse Marx ha vissuto un periodo di questo genere? Certo, se consideriamo chi sono stati i maestri di Marx è possibile ammetterlo. Uno di questi maestri è il teologo liberale Bruno Baure. Quanto male hanno fatto i teologi, soprattutto i liberali, alla Bibbia, alla concezione di Dio e quindi all'umanità, molti anche in buona fede. Ma Bruno Baure scrive in un suo commento, lui insegnava all'università dove teneva lezioni a un vasto pubblico, dice non riconosco me stesso quando pronuncio dalla cattedra le mie bestemmie. Questo è un teologo che parla. Sono tanto grandi che questi ragazzi, che nessuno dovrebbe offendere, alla fine hanno i capelli ritti. Mentre le pronuncio, ricordo con quanta devozione, a casa io lavoro per scrivere un'apologia delle sacre scritture e della rivelazione dell'Apocalisse. In ogni caso è un demonio ben malvagio quello che si impadronisce di me ogni volta che io salgo in cattedra e sono così debole da essere costretto a cedergli. Il mio spirito blasfemo sarà soddisfatto soltanto se sarò autorizzato a predicare apertamente come professore del sistema ateo e molti teologi liberali sono teologi atei. Vergogna, cari teologi, avete distrutto l'idea di Dio, della bontà della Bibbia, del suo messaggio. Ora è questo l'uomo che ha influenzato Marx, quindi il cambiamento deve essere dovuto anche a questo uomo che Marx ha ascoltato. Ma anche Engels, no? E anche uno studioso di teologi liberali devono tutte le loro bestemmie proprio a Bruno Bauer. E dopo che Bauer ebbe seminato il dubbio nell'animo non solo di Marx ma anche di Engels, l'altro grande uomo che scrisse insieme a Marx il manifesto del Partito Comunista, Engels stesso alla fine scrisse a degli amici nel luglio del 1839. Queste sono le parole. È scritto, chiedi e ti sarà dato, quindi lui cita la Bibbia perché la conosceva. Io cerco, continua Engels, la verità, dovunque io abbia la speranza di trovarne almeno un'ombra. Tuttavia non posso riconoscere la tua verità come la verità eterna. E ancora, sempre Engels nel suo libro Scholling, Filosof in Cristo, dice di avere dei dubbi sulle idee rivoluzionarie che erano esplose proprio alla fine del XVIII secolo. E scrive, dopo la terribile rivoluzione francese, uno spirito completamente nuovo, diabolico, è penetrato in gran parte dell'umanità e la negazione di Dio solleva audacemente il capo in una maniera così spudorata e sottile che verrebbe da pensare che le profezie delle scritture vengano realizzate oggi. Un Engels studioso della Bibbia. Engels fa una lunga disamina dei testi biblici in cui si profetizza proprio la venuta e l'azione dei falsi profeti e quindi conclude. Vediamo tra noi i falsi profeti, essi viaggiano attraverso la Germania e desiderano intrufolarsi dovunque, insegnano le loro dottrine sataniche nelle piazze e nei mercati e portano la bandiera del diavolo da una città all'altra, seducendo la povera gioventù allo scopo di precipitarla negli abissi più profondi dell'inferno e della morte. Ecco, uno di questi falsi profeti di cui parla Engels, pericolosi, era proprio il teologo liberale Bruno Bauer, era lo stesso Marx e anche lo stesso Engels che poi scelse di seguire la via di Bauer e di Marx. E dice il Vizioli una cosa molto interessante, che i socialisti si riconoscevano per delle parole, diciamo così, quasi delle parole d'ordine, e dice nel nome di colui al quale è stata commessa una grande ingiustizia, Satana, quindi Satana è stato ingiustamente accusato da Dio, dicono loro, Satana è l'eterno ribelle, il primo libero pensatore ed emancipatore dei mondi e quindi in questa rivoluzione dovremo risvegliare il diavolo nelle persone, dovremo attizzare in loro le più basse passioni, la nostra missione è distruggere e non edificare. È lo scrittore Wunger che cita questo, non il Vizioni. E Prudon, un altro dei pensatori socialisti amico di Marx, nel suo libro La filosofia della miseria scriveva quanto segue, questi sono coloro che hanno dato il via alla rivoluzione, grandi uomini, senz'altro, desiderosi di fare del bene, ma anche, insomma, viziati da un sospetto di essere in qualche modo portatori di un'altra teologia, di un'altra filosofia che potremmo assimilare al satanismo. Infatti, ripeto, Prudon nella filosofia della miseria dice Vieni, Satana, Dio è stupidità e codardia, Dio è malvagio. Io giuro, Dio, con la mano distesa verso il cielo, che non sei niente più che l'esecutore della mia ragione, lo scettro della mia coscienza. Dio è essenzialmente anticivilizzato, antiliberale, antiumano. Quindi una scelta radicale, forse anche perché la Chiesa di quel tempo era associata al potere politico e sfruttava la gente, come diceva il reverendo che ho citato all'inizio. Una Chiesa dalla parte dei potenti non può che essere rifiutata e anche in questo caso, rifiutando quella Chiesa despota, questi pensatori hanno buttato via anche ciò che di buono c'era, non nella Chiesa, ma nel messaggio che doveva portare, il messaggio delle Sacre Scritture, che è una cosa completamente diversa dalla Chiesa che vuole rappresentarlo. Un altro amico di Mars, il poeta Heinrich Hein, al quale si riferisce spesso anche Freud, e se vogliamo anche il nostro Vasco Rossi, che apre spesso alcuni dei suoi concerti con la frase il cielo lasciamolo ai passeri, no? Noi restiamo con i piedi per terra. Ecco, diciamo che Hein, anche egli, amico di Mars, dice, ho chiamato il diavolo ed è venuto, debbo con stupore osservare il suo volto, non è brutto e non è zoppo, è un uomo delizioso e affascinante. E un altro sostenitore della rivoluzione fu Valery Brussov, 1873-1924. Brussov era convinto che la grandezza della Russia stesse nel fatto che avrebbe provocato la morte del cristianesimo, e nel 1901 egli si dichiarò chiaramente adepto del demonismo. Infatti nell'opera Sobrani Sochineni si dice quanto segue, si legge quanto segue di Brussov. A lungo non ho creduto in una verità inattaccabile, amo, amo di uguale amore tutti i mari e tutti i cieli. Voglio che la mia libera nave faccia vela per ogni dove e vorrei glorificare sia il Signore sia il diavolo. Chiarissimo insomma. E Mikhail Agorsky nel suo libro La terza Roma afferma con decisione quanto vi leggo. Brussov si occupava di magia nera, di occultismo e di spiritismo e covava il desiderio, o per meglio dire, la smania di annientare questo mondo. In una lettera a Maxim Gorsky descrisse il piacere che avrebbe provato se avesse potuto aver parte nella distruzione del vecchio mondo. Questo era il suo sogno più bello, immaginare il momento in cui tutto questo sarà in frantumi. Ecco, quindi come vedete non soltanto i despoti politici e religiosi avevano il vizietto della pratica occulta, ma purtroppo anche coloro che avrebbero dovuto contrastarli e sostituirli, cioè gli anarcho-rivoluzionari. Insomma, la rivoluzione ha eliminato Dio dal cielo, ma come dice Karl Barth, ha riempito la terra di dei. Tanto è vero che un comunista convinto come Ignazio Silone, nel suo libro Il Dio che fallì, racconta delle sue visite in Unione Sovietica tra il 1921 e il 1927 e confessa di aver notato in quell'occasione qualcosa di particolare. Scrive in questo libro Il Dio che fallì. Ciò che più mi colpì nei comunisti russi era, anche in personalità veramente eccezionali come Lenin e Trotsky, era l'assoluta incapacità di discutere lealmente le opinioni contrari alle proprie. L'avversario, per il semplice fatto che osava contraddire, era senz'altro un opportunista, se non addirittura un traditore o un venduto. Un avversario in buona fede sembra per i comunisti inconcepibili. E quindi poi conclude con questa frase incredibile, è stato giustamente già osservato che per ritrovare un'infatuazione analoga bisogna risalire agli antichi processi inquisitori contro gli eretici. Quindi praticamente la rivoluzione boscevica, eliminando Dio, ha riempito la terra di dei. Questi erano poi, come sapremo, insomma, Lenin imbalsamato che riceveva la visita di migliaia e migliaia di persone, venerato quasi come un Dio. A un Dio se ne era sostituito un altro. Ecco, quindi diciamo che questa rivoluzione che doveva nascere per liberare il popolo era una rivoluzione con le basi marce. Nello stesso periodo di Alan White viveva, sentenziava anche Sigmund Freud e non abbiamo bisogno di dimostrare che Freud era un ateo prima che psicanalista, ma come dice Peter Gray, quello che io voglio dimostrare è piuttosto che Freud divenne psicoanalista in gran parte proprio perché era ateo. Anche qui abbiamo una scienza, non solo sociologica e politica, in cui abbiamo la scienza dell'anima, la psicanalisi, come una fede atea, no? Una psicoanalisi in sostituzione della fede in Dio. Ecco un altro Dio, proprio Freud, come dicevamo prima, che citava una frase dell'amico di Marx, no? Quando il cielo lasciamolo agli uccelli, noi occupiamoci della terra. Certo, ma se ti occupi della terra senza che Dio ti guidi, allora tu crei, come diceva Karl Barth, appunto, degli dèi. Avendo eliminato il Dio del cielo sulla terra, crei tu degli dèi. Ora a Freud va senz'altro in merito di portata storica, senz'altro di aver messo in luce quanto l'inconscio condizioni l'uomo nelle sue scelte di vita, ma nota molto bene Hans Kung, teologo cattolico e insomma intellettuale di primo piano. Certamente, dice Kung, la religione può essere, come dimostra Freud, l'illusione, espressione di nevrosi e di immaturità psichica, ma non lo deve essere certamente la fede in Dio, che può essere fortemente influenzata dal rapporto del bambino con il padre, ma non per questo Dio non può esistere. Quindi anche qui, oltre che essere l'occhio dei popoli, la religione può diventare un ostacolo alla crescita psichica, senz'altro, ma questo non significa che Dio debba essere lasciato da parte. Infatti un altro psicologo, un grande psicologo credente, Paul Tournier, dice nel suo libro Il posto dell'uomo, Oggi nessuno mette in dubbio la realtà dei meccanismi che suscitano sensi di colpa, ma questa scoperta semplicemente conferma quello che la Bibbia ci aveva già detto, quanto l'uomo abbia bisogno di sentirsi amato. Quindi praticamente se Freud diceva che la religione è la nevrosi ossessiva dell'umanità, Tournier dice che, e non solo lui ma anche Vittor Frank, che una vera religione è la salvezza dalle nevrosi. Sì, perché oggi si constata che l'uomo non è più turbato a causa di frustrazioni sessuali, oggi l'uomo è oltre più che libero rispetto al sesso, ma mai come nel nostro tempo infatti le persone sono disinibite a riguardo del sesso e non è più la repressione della sessualità, continua Paul Tournier, è il senso di colpa, che la nevrosi caratteristica del nostro tempo, in qualche modo scusate il bisizio di parole caratterizza, è la mancanza di orientamento, di norme, di significato, di senso, il vuoto e quindi la repressione della moralità e della religiosità. Forse proprio perché eliminando Dio l'uomo non trova più senso alla propria vita dopo aver fatto esperienze di tutti i generi, anche quelle nel campo sessuale. Vorrei concludere con, visto che è un seminario dedicato ad Ellen White, proprio con una citazione di questa donna scelta da Dio in un momento straordinario della storia, in un momento in cui Marx elimina Dio dalla storia, Freud lo elimina dall'anima e come vedremo nel prossimo incontro Darwin lo elimina dalla natura. Dio non c'è più e l'uomo a chi si deve riferire? In principi di educazione cristiana, pagina 2, Ellen White scrive, la vera educazione è più che la frequenza di un qualsiasi corso di studi, essa ha a che fare con l'intera persona per tutta la durata dell'esistenza umana e la sorgente di una simile educazione è rivelata in queste parole ispirate che si riferiscono all'essere infinito, all'essere infinito che in lui tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti, come dice Paolo nella Lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 3. Poi continua e conclude Ellen White, il mondo ha avuto i suoi grandi maestri, uomini e donne dall'intelligenza sconfinata, possiamo metterci anche Marx, Freud e poi vedremo anche Darwin, no? Ma aggiunge Ellen White dall'enorme capacità di ricerca, persone che hanno stimolato il pensiero e aperto vasti orizzonti di conoscenza. C'è qualcuno però che sta più in alto di loro, quindi non c'è diciamo scontro tra Dio, la religione e la scienza, perché Dio è la fonte della scienza, della vera scienza. Come la luna e i pianeti del nostro sistema solare, conclude Ellen White, risplendono per la luce riflessa del sole così i grandi pensatori del mondo, finché il loro insegnamento risponde a verità, riflettono i raggi del sole di giustizia. Ogni vera conoscenza e ogni reale sviluppo hanno sempre origine nella conoscenza di Dio. Eppure questi grandi uomini, Marx, Freud e come vedremo Darwin, hanno fatto della loro opposizione a Dio la loro scienza. Quindi ci chiediamo che scienza è? Certo da prendere con le pinze. A risentirci nel prossimo incontro.